Ti dico che... Tranquilli, lo trovo subito infidanziato. Ma dai... Guardate questa app. Trovo i ragazzi qui vicino che cercano l'anima gemella. Tirati fuori dalle situazioni difficili. È uno scherzo! Ci sei cascata! Sì, è uno scherzo! Hai fatto una faccia! Nuovo RAV4 Spirito SUV. Versione Active 2000 Diesel a 23.950 euro. Grazie a tutti!